Quando passi alla mattina di buon'ora, denanzo al prestine che scurna il pane, mi fermi un momentino, tenta di gura da quello d'or che incontra il mio bensang. Se è più buono di quello d'or che il man d'un alimento in scia alla mano, gustoso e lavorato senza tancur, il testo mi si faceva in tempo lontano. Farina di formento, quando le va, viene impastata assi con l'acqua pura e senza complimenti, il pane le fa. Vanno dentro del fuoco, per usurare, tre sit, bastone, michette e pasta dura, in fila, vengono a profumare. Se ti rendrai quell'aria tevedina che poi la si spantega in della strada, e lì la si confonde con quella fine che la porta la notte sulla giornata. E allora il prestine di un don dundina, appena la finì la sua sfornata, il va, il suo chavate pieno di farina, a riposarsi in tanto che il pane le fiava. La prima gente in giro, la galonurde restirà quel fia che il custa niente, ma niente il custa quel del nostro signore. Le gente che va a bottega e che addirittura la si fornisce di pane per i soddini, tre si, bastone, michette di pasta dura.